Aspetta, cioè devo fare ciak? Ok, ma devo dire proprio ciak o faccio così? Melissa Panarello, ciak 1, buona la prima. Sono una scrittrice, sono nata nel 1985 a Catania, ho cominciato abbastanza presto, nel 2003 è uscito il mio primo libro, ne sono seguiti altri quattro e a breve è anche l'ultimo che uscirà per Bompiani. Il tuo libro, Cento colpi di spazzola, prima di andare a dormire, ha venduto 3 milioni di copie ed è uscito da poco in una ristampa nei tascapi di Bompiani. Avere un successo così giovane ti permette di poter proseguire il tuo percorso con molta più tranquillità, non hai lo spettro del successo che devi a tutti i costi raggiungere come fanno molti altri scrittori, che cercano a tutti i costi di sfornare il successo della prossima stagione, l'ho già avuto. Chi ti ha trattato peggio quando hai raggiunto il successo? Gli uomini, come sempre, gli uomini soprattutto gli uomini addetti ai lavori, gli uomini scrittori, i giornalisti, i critici, insomma tutta quella gente che ti riconosce come un individuo di sesso femminile, giovane, con successo e quindi per questo è deprecabile, che parla di sesso, poi figuriamoci. L'anno scorso è uscito il tuo quarto romanzo, 3 come un triangolo amoroso. È un omaggio al triangolo perché penso che intanto la coppia, la coppia moderna è in una profonda crisi, quindi perché non sperimentare nuove forme di amore, nuove forme di comprensione di sé e dell'altro? E il triangolo probabilmente è il sistema su cui ci si regge meglio, perché su se gambe l'equilibrio, l'equilibrio secondo me si sostiene meglio. Però triangolo con due uomini e una donna e non con due donne e un uomo? No, quello è un gusto mio, perché non c'entra niente, il triangolo lo puoi fare con chi vuoi, anche tre uomini, tre donne, quello che vuoi insomma. Io al momento lo faccio con i miei gatti, però va bene, insomma l'importante è che ci sia una spartizione regolare delle energie. Però leggendo quel libro si capisce anche che malgrado tu sia una donna liberata, sei anche una donna gelosa. Io dico sempre che sono una persona con poco pudore ma molto timida, anche se non è creduto, però in realtà sono una ragazza molto virtuosa, non sono affatto una persona trasgressiva, non mi sento affatto appartenere a quel mondo immaginario che i lettori poi si immaginano nei miei confronti. Attenzione, però qui crolla un mito. Qui crolla un mito, e lo so, ma io posso poter fare le orge la sera, ma farle con una grazia che le persone non si aspetterebbero. No, è vero, perché spesso si pensa che la trasgressione, la sessualità sia questa cosa, no, animalesca, rapace. Tutti infatti si stupiscono quando mi vedono bassa, un metro e cinquanta, nella mia normalità. In realtà il sesso estremo può farlo anche la penettiera sotto casa, anzi, soprattutto. Ci descrivi una tua giornata tipo? Mi sveglio alle otto del mattino, per gran parte della mattinata non riesco a concludere niente. Insomma, saltello da un sito internet all'altro, leggo gli oroscopi tutti i giorni, mi faccio gli oroscopi miei personalizzati tutti i giorni, lo faccio ai miei amici, e poi scrivo. Ti faccio notare che nella tua giornata tipo non c'è né cibo né sesso. No, è vero, cibo pochissimo, sesso nemmeno, nel senso non sono, in questo momento sono singolo, quindi insomma si fa quel che si può, magari ti devo dire. Quanti tatuaggi hai? Ne ho tre. Si vedono? Sì, due. E il terzo è qua. Ok, allora ce li racconti? Allora, diciamo quello più grande, il centauro, l'ho fatto nel 2008, mi ero appena lasciata con il mio primo amore e ho deciso di fare questo viaggio di tre mesi per l'Europa, ho preso un biglietto, sono andata in stazione un pomeriggio, ho preso questo biglietto in terrail e dopo un paio di ore sono partita, senza dirlo a nessuno, sono proprio andata e partita, ma mi sentivo un essere mezzo animale, mezzo umano che andava alla ricerca di qualcosa, che rincorreva comunque un suo sogno in qualche modo. Però il centauro è maschio, anche molto maschio. Sì, ma il centauro è maschio, in realtà non ha neanche sesso, ma io mi sento anche un po' maschio, ho un animus molto grande. Nel senso c'è ancora qualcosa che ti sembra che devi sperimentare? No, 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 anche perché sono in realtà molto tradizionalista, cioè a me piace io a te, noi due, letto e basta, cioè non è che dobbiamo fare chissà che cosa, mi piace molto l'intimità più che la trasgressione, mi piace quello che la gente non sospetta che possa piacermi. Però guarda che è una strana intervista, perché tu mi hai appena detto che è meglio il triangolo della coppia, adesso mi indico meglio io a te. Certo, certo, no, ma il triangolo va vissuto come coppia, come sempre abbiamo inteso le coppie, non va inteso come una cosa trasgressiva, che siamo un triangolo, quindi facciamo le cose strane. Il triangolo è una coppia, per cui ci mettiamo sul divano tutti e tre la sera, guardiamo la televisione, quello cucina, quello spazia per terra. In realtà è una coppia un po' più allargata. Continuerai a scrivere di erotismo? Lo scambio energetico dei corpi, dei flussi delle persone che amo erotismo mi piace molto, quindi quella cosa lì probabilmente anche se scriverò di calcio ci sarà sempre, però scrivere di sesso è una cosa che non mi interessa più di tanto, non mi interessa come mi interessava prima. Chi è il tuo scrittore preferito? Amo moltissimo, non so, Mariangela Gualtieri come Amelia Rosselli, come Silvia Platt, insomma, tutte quelle donne poetesse che non sono mai inserite nella letteratura, nella letteratura vera, e invece fanno grande la letteratura. C'è un verso che ti viene in mente, che ci vuoi citare? Beh, c'è uno bellissimo di Amelia Rosselli che dice per quel tuo cuore che io largamente preferisco a ogni altra burrasca. Perché sei andata a scrivere i risultati del premio strega? Ma guarda, in realtà io ero lì perché mi avevano invitata. Meno che se ti va, io ho detto guarda, l'occasione è bellissima, perché sono dieci anni che mi dicono che sono la velina della letteratura, a questo punto lo faccio. Da piccola cosa sognavi di diventare? Una suora e una scrittrice. Veniamo alla telenovela che ha per protagonisti te e Elido Fazzi. Come hai fatto a rischiare bancarotta dopo aver venduto 3 milioni di copie di 100 colpi di spazzola? Intanto ci ho vissuto come ragazza sola, indipendente per 8 anni. L'ho comprato a casa a Roma, poi insomma a un certo punto non sono più stata pagata. Elido Fazzi sostiene che tu non sai scrivere. Mi ha pubblicato tre libri però, strano. Dice che sei luciferina. Luciferina non sei Elido Fazzi, che in realtà è con lei che porta la luce, quindi sì lo so. Come sarà il protagonista del tuo prossimo romanzo? È una bambina che racconta della sua bizzarra famiglia negli anni 90. Hai detto che sei single, quindi direi di finire con il ritratto ideale dell'uomo che ti piacerebbe incontrare. Oddio, questa è difficilissima adesso. È la domanda più difficile dell'intervista. No, non ho un uomo ideale. Guarda, mi interesserebbe molto avere accanto a me una persona che riconosca il mio valore. Perché forse non l'ho sempre incontrata. Non mi piacciono, ecco ti posso dire cose non mi piace. Non mi piacciono gli uomini mingherlini, non mi piacciono gli uomini eccessivamente magri. Non mi piacciono gli uomini con i sandali. Non mi piacciono gli uomini con le mani troppo piccole. Poi il resto va bene, insomma.